spoiler di terramara lo strappo tra zuleila e gulten a quanto sembra nella sopopera terramara tutti gli equilibri stanno valicillando la relazione nascente tra il mazzaccaia e la dottoressa mujigan e kim ujo porterà veramente molto scompiglio non solo innescherà la gelosia di zuleila ma succederà anche che un altro personaggio della sopop verrà coinvolto da una folle gelosia infatti nelle prossime puntate italiane di terramara anche la domestica gulten tajin sarà disperata all'idea che il mas abbia voltato pagina e non abbia capito quanto lei lo amasse segretamente e tutta questa rabbia repressa porterà gulten a discutere con zuleila un litigio che per gulten sarà la sua perdita del lavoro dalla villa degli jaman ma vediamo meglio nel dettaglio come si sono svolti i fatti appena si diffonderà la voce del fidanzamento gulten troverà una scusa per farsi mandare nel paesello da un car e approfittando di questa commissione si farà bella metterà il suo foulard migliore con un programma ben chiaro nella sua mente appena arrivata al paesello gulten si recherà immediatamente nella fabbrica da il mas per poter parlare con lui ma proprio in quella circostanza le illusioni di gulten verranno spezzate come una doccia fredda sì perché il mas vedendo gulten entrare nel suo ufficio per parlargli si accorgerà subito che lei mira a qualche altro cosa ad aprire il suo cuore e digli che lo ama apertamente ma lui sceglierà però di essere completamente sincero con lei e lasciandola però sconvolta per la sua durezza nel dirle quelle cose infatti oltre a svelarle di essere intenzionato a far funzionare il suo rapporto con muzigan le dirà anche che con lei lui non ha mai avuto alcun tipo di interesse sentimentale perché l'ha sempre soltanto vista come una sorella ma neanche a dirlo tali parole spezzeranno al cuore di gulten che ritornerà in lacrime distrutta da una notizia così diretta che gli ha troncato in un attimo i suoi sogni ed appena arrivata alla tenuta sanie la vedrà arrivare veramente sconvolta e piangente e andrà subito a consolare la cognata ma questo è solo l'inizio il bello deve ancora venire quindi ricordati di iscriverti al canale se ancora non lo sei e adesso procediamo nella tenuta degli yaman gulten discute ancora con zuleila perché nel momento in cui riprenderà a lavorare gulten incrocerà la sua strada con quella di zuleila ancora molto arrabbiata e risentita con lei perché la ritiene totalmente responsabile della fine del suo amore con il maz poiché le aveva nascosto le lettere che zuleila le dava per consegnarle in segreto ad il maz e lei invece di consegnarle al giusto destinatario se le era fatte sottrarre da suo fratello gaffur anche in malo modo per la verità ma quelle lettere a cuore aperto che zuleila aveva scritto a il maz erano la chiave per il futuro di zuleila erano importantissime poiché grazie a loro l'uomo avrebbe scoperto che zuleila non ha mai voluto sposare demir yaman ma che era semplicemente stata ricattata da un car e come ricatto un car aveva posto davanti il fatto che o le sposava demir e lei cercava di aiutare di salvare la vita il maz dalla pena di morte capitale oppure un car non avrebbe fatto proprio nulla per aiutare il suo il maz a salvarsi e così sarebbe morto nel bel mezzo della discussione che si verrà a creare gulte tenterà in tutti i modi di difendersi dalle pesanti accuse che le rivolge zuleila ma la situazione scoppierà letteralmente quanto lei presa dalla rabbia e non riuscendo a convincere zuleila che ciò che aveva fatto era solo perché era stata picchiata dal fratello se ne uscirà con una frase infelice nei confronti di zuleila che ritiene amica infatti a un certo momento lei asserirà che zuleila è così ostile nei suoi riguardi soltanto perché anche lei è gelosa della relazione che sta nascendo tra il maz e muzigan un'accusa che farà andare su tutte le furie zuleila ben decisa far capire a gulte che lei deve stare al suo posto di domestica e non deve intromettersi in affari che non la riguardano questo aspro e duro confronto avrà un epilogo molto molto brutto infatti zuleila farà esplicita richiesta alla suocera un car le chiederà semplicemente che non sarà più disposta ad accettare le insinuazioni di gulte in su di lei e quindi chiederà la suocera di licenziarla quella sera stessa asserendo che le ha parlato di hilsner mettendo in dubbio la sua integrità di donna sposata in maniera molto pesante come facilmente prevedibile un car asseconderà il desiderio della nuora e caccerà gulte dalla cucina e dalla mansione concedendole però una possibilità e cioè che la destinerà ad un'altra mansione all'interno della loro tenuta da quel momento in poi zuleila proprio non condividerà più nulla con gulte che prima era un po' sua amica la ignorerà in ogni occasione ed arriverà anche ad umiliarla pesantemente facendolo capire che non è più lei la persona di cui si fida zuleila come lo farà semplicemente recandosi all'interno della cucina dove vi sono sani e gulte in fadik e senza nemmeno salutare gulte zuleila entrerà nella cucina come dicevo e si recherà da fadik mettendogli al collo una catena d'oro che era destinata a diventare di gulte e le dirà che è un suo regalo di tenerla gulte sarà molto ferita da quest'azione di zuleila uscirà dalla cucina con le lacrime agli occhi mentre un car e sanie osserveranno la scena non capendo esattamente tutto ciò che sta succedendo veramente e quale dramma vi sia in atto lo strappo tra zuleila e gulte sarà perciò sempre più insanabile ma prima o poi riusciranno a chiarirsi le due donne per ora questo scenario sembra di poco lontano ma per scoprirlo tu continua a seguirci su questo canale dopo esserti iscritta e regalandoci il tuo like avrai modo di scoprire anticipazioni e spoiler sulla telenovela terra amara ti aspetto al prossimo video